Cinque nuovi casi di coronavirus nel centro Abruzzo, tra cui quattro in Valle Peligna, uno a Sulmona, uno a Pratola Peligna, uno a Pacentro, uno a Vittorito, un altro a Casteldisangro. Il caso sulmonese sarebbe riconducibile al dipendente Saka, un parente, mentre a Pacentro il virus colpisce anche più piccoli. Si tratta di un bambino risultato positivo al Covid-19, ma il caso è riferibile alla clinica San Raffaele. Il percorso di negativizzazione del virus è già iniziato da qualche giorno, tant'è che il piccolo sta bene. Situazione più preoccupante è l'ospedale di Popoli, dove è il risultato positivo un altro operatore sanitario, che risiede a Pratola Peligna. Il conto sale a 6 se si considera anche l'altro operatore residente nella cittadina, l'infermiera che vive in un paese del Pescarese e altri casi registrati. Nell'elenco dei comuni dove sono state accertate positività ci sarebbero anche Vittorito e Casteldisangro. Si tratta di una persona che vive a Giulianova, ma risiede formalmente nel centro dell'Alto Sangro. C'è poi il caso di Alfedena, che risulta accertato ieri ma confermato solo in giornata. Si tratta di un uomo che risiede formalmente nel piccolo comune, ma vive in un centro del Pescarese. In Abruzzo la curva dei contagi è quasi stabile, se non il leggero calo. Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 1.859 casi positivi al Covid-19, diagnosticati le teste seguite nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zoprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 69 casi, su un totale di 978 tamponi analizzati, il 6,1% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri 7 aprile i ripositivi erano stati 78, su un totale di 683 tamponi analizzati. Del totale dei casi positivi, 197 si riferiscono all'ASL Avezzano-Sumona-L'Aquila, 361 all'ASL Lanciano-Chieti-Vasto, 771 all'ASL di Pescara, 530 all'ASL di Teramo, 6 nuovi positivi oggi nell'ASL 1. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa ASL provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di ASL differenti.